Mi chiamo Sara, ho 16 anni. Nel passato ho incontrato delle persone che volevano farmi del male o approfittare di me per guadagnare dei soldi. Mi hanno raccontato un sacco di bugie per spaventarmi. Adesso che è tutto passato, mi sento di darti alcuni consigli. Il primo è che non devi avere paura di parlare, anche se hai paura o non ti senti sicuro. Devi sapere che tutti i ragazzi sotto i 18 anni hanno dei diritti specifici, indipendentemente dal paese dal quale provengono. Avrai bisogno di qualcuno che ti spieghi i tuoi diritti e ti guidi, perché, credimi, incontrerai tantissime persone e non è sempre facile capire tutto o sapere di chi ti puoi fidare. Le persone a cui ti riferirai sono operatori e lavorano in associazioni o servizi di protezione dell'infanzia, ma anche gli agenti di polizia, i giudici, gli assistenti sociali, i medici e gli avvocati. Onestamente all'inizio non mi fidavo di loro, ma è stato un errore. Questi sono gli adulti ai quali potrai raccontare la tua storia e chiedere aiuto. Anche se prima hai raccontato una storia diversa, puoi sempre cambiarla per spiegare quello che ti è successo veramente. Gli operatori non si arrabbieranno, anzi, riusciranno così ad aiutarti meglio. Se non hai nessun parente nel paese in cui ti trovi, hai il diritto di avere un tutore che ti accompagni nel tuo percorso e sia un riferimento per te. Il tutore prenderà delle decisioni con te e per te. Altri professionisti potrebbero mettere in dubbio la tua età o la tua storia. Possono anche chiederti documenti per verificare la tua identità. Se hai questi documenti, tienili al sicuro perché sono molto importanti. Non li perdere e soprattutto non li dare a nessuno che non sia l'assistente sociale o un operatore di fiducia. Ah, i professionisti potrebbero anche chiederti di fare degli esami medici per verificare la tua età. In ogni caso, tutte le volte che non capisci qualcosa, chiedi a qualcuno di spiegarti bene tutto quello che succede. È un tuo diritto. Se hai delle domande sui tuoi diritti, hai il diritto di avere un avvocato senza pagare. L'avvocato sarà quello che ti consiglierà sulle decisioni da prendere e sarà al tuo fianco per difenderti. Infatti, non ti dimenticare che tutto l'aiuto che puoi ricevere come minorenne, alloggio, cibo, scuola e medicine, è gratuito. Non ascoltare se ti dicono il contrario. Sai, un'altra cosa molto importante che ho imparato è che bisogna stare attenti perché, a parte i professionisti, non tutte le persone che conoscerai sono affidabili. Alcune possono sembrare molto gentili, ma poi darti cattivi consigli o informazioni false. Queste persone potrebbero cercare di farti fare delle cose che tu non hai voglia di fare o che sono pericolose per te. Devi sapere che se sei stato costretto a fare delle cose cattive, hai il diritto di non essere punito per questo perché non è colpa tua. Parlanne con un operatore. Anche se hai il diritto ad avvalerti di un interprete, ti consiglio di imparare il prima possibile la lingua del paese di accoglienza. Questo ti consentirà di farti capire e di poter fare delle domande direttamente alle persone giuste. A volte le procedure, come l'iscrizione a scuola, la richiesta d'asilo o le indagini della polizia, possono essere molto lunghe. Dovrai essere molto paziente, ma anche quando dovrai affrontare queste difficoltà è meglio non perdere la speranza e non mollare. Fai sentire la tua voce. Dimenticavo una cosa. I professionisti non sanno tutto e a volte possono anche sbagliare. Non esitare quindi a verificare quello che hai capito, se non sei d'accordo con qualcosa o se ottieni un no come risposta. Cerca di essere positivo, anche se ti trovi a dover ripetere sempre la tua storia o se hai l'impressione che nessuno ti capisca. E ricorda, non sei l'unico che si trova in questa situazione. Molti ragazzi hanno vissuto un'esperienza simile e adesso stanno bene, come me. Spero di averti detto le cose più importanti. A volte dovrai lottare affinché i tuoi diritti siano rispettati da tutti. Magari sarà lungo e complicato, ma ci sono delle persone meravigliose che ti aiuteranno e ti staranno vicino in questo. Cerca di trovarla al più presto. Se vuoi altre informazioni, puoi consultare questa brochure nella tua lingua. La troverai su internet o dai tuoi operatori. Grazie a tutti i ragazzi, volontari e operatori che hanno reso possibile la creazione di questo video.